Parlando con Cristina 40, la regina delle televendite ha confessato di non essere pronta a rimanere nella casa del GF per troppo tempo, soprattutto perché il programma verrà allungato di diversi mesi come è probabile. A preoccupare Rossetti è un affare che deve ancora concludere fuori dalle mura di Cinecittà, la vendita della sua casa. Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi, non ci sarò troppo a lungo. Io ho un sacco di cose da fare, adesso ve lo dico, esordito, perdendosi poi nel racconto delle faccende che è in programma di sbrigare non appena tornerà a casa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni, per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro. Quindi sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower.